Questo governo impiega ogni ora del suo tempo per contrastare e ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno soffia cercando di costruire dissenso. Avete illuso queste persone di voler rimpiazzare il reddito di cittadinanza con corsi di formazione per poter lavorare. Dopo nove mesi, ministro Calderoni, abbiamo scoperto che chi non vuole lavorare è questo governo che non ha fatto nulla. Ivanisti siete voi! Le persone sono disperate e qui non c'è qualcuno noi, le opposizioni, che soffia sul fuoco. Il fuoco lo avete appiccato voi. Vi abbiamo chiesto un decreto immediato, una proroga, un rinvio, un modo per accompagnare ed aiutare chi rischia di non avere nemmeno un euro per mangiare. A voi non interessa. 4.718 euro al mese sono una buona indennità e va bene così, ma non sono degli stipendi d'oro. Ha ancora senso, domando sommessamente, continuare a stare insieme? Ognuno starà dalla sua parte e sapremo che abbiamo anche un altro avversario politico. Colleghi importanti hanno detto prendiamo atto che così non si può stare insieme. Ripeto, io sono per discuterne insieme e affrontare il problema. Dopodiché è evidente che al primo posto viene la coerenza. Penso che sia molto difficile continuare una collaborazione con chi oggi rinnega tutto quello per il quale noi siamo stati votati. Faccio parte di un partito coerente che non chiede il voto sulla base di un programma e poi lo cambia in corso d'opera. Con la delega approvata oggi sarà possibile la prima riforma del fisco dopo 50 anni. Si tratterà di avere un fisco più equo e ragionevole. Io sogno un'Europa cuore d'Occidente che metta a frutto il suo ingegno per spegnere focolai di guerra e accendere luci di speranza. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Coffee break estate, sempre in diretta. Sono le 9.41. Abbiamo chiuso con le parole del Papa da Lisbona. Oggi comincia la giornata mondiale della gioventù. Un grande raduno per Papa Francesco, un bagno di folla. Tanti appelli suoi, non solo per l'Ucraina, pace in Ucraina, ma anche su molti temi specifici di cui ci occupiamo anche noi tutte le mattine. Allora comincio a presentare il nostro parterre. Dalla mia sinistra, Fabia Giacobbe, la direttrice di formiche.net. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno. Marco Campomenosi, europarlamentare della Lega. Buongiorno, Angelo Bonelli per l'Alleanza Verdi-Sinistra. Buongiorno, buongiorno. E diamo il benvenuto anche al direttore del Messaggero, Massimo Martinelli. Buongiorno. Ci raggiungerà poi, in chiusura di puntata, anche un tributarista, perché ieri c'è stato via libera del Senato la delega fiscale, che ora passa alla Camera, cose di cui spesso non si capiscono bene i contorni. Allora cercheremo di fare chiarezza per spiegare in soldoni a chi ci ascolta che cosa significa e quanto può essere importante anche per le tasse di chi ha uno stipendio, per esempio con la riforma delle aliquote. Sul tavolo però ci sono, comincio da Flavia Giacobbe, i temi che abbiamo visto nella copertina di Camilla Moreno, e cioè lo scontro, la tensione, chiamiamola come vogliamo, oggi il Corriere della Sera parla di battaglie addirittura sul reddito di cittadinanza, in Aula ieri c'è stato proprio uno scontro tra il Ministro e le contestazioni che vengono fatte. Devo dire che nelle strade tra Napoli e Roma oggi ci sarà una nuova manifestazione alle 11, non si è vista una grandissima partecipazione popolare, hanno protestato forse più i sindaci che sul territorio vedono sottrarsi delle risorse importanti, è così? Oppure c'è effettivamente un'ondata di sdegno popolare sul reddito? Ma secondo me il governo, adesso qui saranno tutti i contrari su quello che sto per dire, però si sta comportando in maniera coerente, insomma in fondo l'aveva detto già in campagna elettorale che la Meloni che avrebbe rivisto il reddito di cittadinanza, nonostante questo comunque ha vinto le elezioni, invece il Movimento 5 Stelle comunque ne ha fatto una bandiera durante la campagna elettorale della difesa del reddito di cittadinanza, infatti c'è da dire che ha preso una pioggia di consenso proprio nelle aree dove il reddito era più percepito, però comunque ha perso le elezioni. Io penso che si conteste al governo il fatto che debba essere molto attento ai conti pubblici e in effetti rivedendo il reddito di cittadinanza lo sta facendo perché il reddito di cittadinanza pesa moltissimo sul bilancio dello Stato e sappiamo bene, questo penso che sia un po' sotto gli occhi di tutti il fatto che non andasse soltanto alle persone che davvero ne avevano bisogno, quindi la Meloni cerca o cercherà di rivedere il reddito mettendolo a disposizione delle persone che davvero ne hanno bisogno ma rimettendo le altre persone che non hanno lavorato in questi anni sul mercato per farle lavorare perché comunque il reddito di cittadinanza si doveva basare su due gambe, una gamba di trovare lavoro e l'altra gamba di sussistenza, in realtà le due gambe non erano in equilibrio, quindi ha creato disoccupazione e ha peggiorato la situazione del lavoro nero nel nostro paese. Io sinceramente penso che il governo sia abbastanza coerente su questo, invece c'è da dire che mi sconvolgono un po' le capovolte del PD che ancora rincorre il Movimento 5 Stelle e soprattutto Conte su questi temi. Sul reddito di cittadinanza. Io invece volevo focalizzarmi su quello che oggi scrive tra l'altro il messaggero. Due aspetti, due facce della stessa medaglia, lo chiedo ad Angelo Bonelli. Da una parte ci sono gli imprenditori che dicono, avete visto, con l'abolizione del reddito sono subito tornati gli stagionali. Pare che ci sia, secondo Federturismo, se non vado errato, una richiesta improvvisa, soprattutto in Campania e Sud Italia, di impieghi in quei settori dove si sono sempre lamentati gli imprenditori di carenza di personale, soprattutto l'anno scorso, balneari, turismo, alberghi, eccetera. Dall'altra abbiamo notizie invece di file che si allungano alla Caritas. Allora, cercheremo nei prossimi giorni anche con la nostra inviata di capire come stanno le cose. Secondo lei la verità sta nel mezzo o veramente abbiamo tolto il sussidio indispensabile a tante famiglie che dovranno rivolgersi alla malavita, come ha detto qualcun altro, come De Caro? La verità sta nel fatto che il Paese sta vivendo, i settori sociali stanno vivendo una crisi sociale molto molto imponente, importante, legata all'inflazione. Ad esempio il tema dell'aumento del costante livello alto dei prezzi energetici incide ovviamente su beni di prima necessità, pensiamo ai prezzi alimentari e tanto altro. Questo incide sulla vita delle famiglie. Devo dire però che se dobbiamo essere un po' corretti dal punto di vista dei dati chi ha abusato e ha percepito illegittimamente e quindi illegalmente il reddito di cittadinanza secondo i dati della Guardia di Finanza sono l'1,6-1,8% dei percettori del reddito di cittadinanza. Quindi c'è un problema che riguarda la povertà sociale. Non si può allevare un reddito che ha consentito a molti nuclei familiari di poter vivere senza costruire delle alternative. Del resto il governo ha parlato di corsi di formazione. A proposito, vi soddisfa quello che ha detto il Ministro ieri sul reddito di inclusione che tornerà già da gennaio? Reddito di inclusione che esisteva già, lo ricordiamo. Che potrebbe tornare per quelle famiglie? Potrebbe tornare per quelle famiglie. Intanto a settembre altri 100.000 nuclei familiari gli verrà allevato il reddito di cittadinanza e progressivamente questo accadrà ulteriormente. Devo dire che le promesse del governo si sono clamorosamente e drammaticamente verificate come un qualcosa che non viene mantenuto. Abbiamo visto i corsi di formazione, hanno mandato un ignobile sms a chi aveva il reddito di cittadinanza mettendo in difficoltà assistenti sociali. C'è una denuncia del Presidente dell'Ordine degli assistenti sociali, devo dire, pure molto drammatica. Non trasformate questo avamposso in un luogo in cui diventiamo irresponsabili di questa inadempienza da parte del governo. Guardi, concludo, il Ministro Lolo Brigitte ha fatto la social card, l'hanno presentata come un alimento di grande propaganda, è 1 euro e 20 centesimi al giorno per famiglie che hanno 15.000 euro di Ise, tre figli, poi non puoi essere single, poi come questa cosa per cui se sei single è una colpa, per un anno, francamente devo dire, le lemosi di Stato, no anche, no grazie e quindi penso che ci sia un problema molto serio delle politiche sociali ed economiche che sono totalmente iniqua in questo Paese. Senta Campomenosi, ma in Europa tutto questo come viene visto? Cioè da uno sguardo un po' più lontano dall'Italia, il dibattito sul reddito e tutte queste misure di cui si parlava con Angelo Bonelli? L'Europa si impiccia anche già troppo sulle nostre competenze e quindi non mi risulta per fortuna che ci sia da parte loro un'influenza eccessiva se non tra le mille condizionalità legate anche al PNRR, sulle cosiddette riforme, alcune giustissime, altre un po' meno utili a mio avviso per trovare un percorso di crescita per il nostro Paese. C'è un partito che nella scorsa legislatura a Roma è stato in ciascuno dei tre governi e l'unico partito che è stato nel Conte 1, nel Conte 2 e nel governo Draghi è il Movimento 5 Stelle che è il partito che ha voluto questo strumento del reddito di cittadinanza, sostenuto anche da noi della Lega che eravamo in coalizione con loro nella prima esperienza. Se c'è qualcuno che ha delle responsabilità circa l'implementazione di questo strumento che non ha portato i risultati che volevamo è prima di tutto il partito che lo ha voluto. Così come noi, il giorno in cui avremo l'autonomia, ci assumeremo la responsabilità di cercare di farla funzionare in maniera virtuosa per il Paese. Quindi nessuno nel programma del centrodestra, tantomeno noi della Lega, ha detto che non vuole alcuno strumento di quel tipo. Con strumenti alternativi cercheremo di favorire chi veramente ha bisogno di un sostegno e non chi può invece rispondere a un mercato del lavoro che fatica, faticava, faticherà ancora per un po' a trovare, a fare match rispetto alle esigenze sociali della popolazione perché lo sappiamo benissimo, gli imprenditori ci dicono che specialmente per certe attività i specialmente più giovani rispondono a ma io vorrei essere assunto in nero perché se no mi tolgono il reddito di cittadinanza. Allora, ha toccato due o tre temi di cui ci occuperemo sicuramente nella prossima parte di questa trasmissione. Queste distorsioni sono state molto forti e quindi si tratta di correggere. Dobbiamo fare un piccolo break ma mi interessava sentire la posizione del direttore Martinelli su quello che oggi ha scritto il messaggero, quindi ci prendiamo questa pausa, poi ne parliamo in maniera più diffusa, dobbiamo capire da che parte sta la verità. Abbiamo detto per un anno, anche da questi schermi, che un imprenditore non può entrare in concorrenza sostanzialmente con il reddito di cittadinanza di 600 euro perché è chiaro che sta pagando uno stipendio troppo basso, però è anche vero che come segnalava Federturismo ora c'è una richiesta di lavoro che l'anno scorso non c'era. A questo aggiungerei anche, ma ne parliamo tra poco, il dibattito sul salario minimo che si inserisce in questa cornice. Oggi si vota alle 9.30 la sospensiva in aula e quindi si va verso un rinvio di tutta la discussione a settembre. Restate con noi a tra poco. Strettamente collegato al tema della sanità, anche in considerazione del divario esistente tra i diversi territori italiani, è il tema dell'autonomia differenziata. Il governo vuole, come voi sapete, favorirne l'attuazione in tempi rapidi. Il mio interesse è parificare tutti i territori da un punto di vista infrastrutturale, quindi mettere in condizioni ciascuna regione, anche quella più in ritardo, di poter correre. Taglia contro l'autonomia differenziata di Calderoli che vuole dividere ulteriormente il paese e rischia di aumentarne fortemente le diseguaglianze, certo le dimissioni di autorevoli esponenti da quella commissione e soprattutto le argomentazioni che hanno utilizzato, sono argomentazioni che abbiamo utilizzato anche noi dicendo che i livelli essenziali di prestazione devono vedere il pieno coinvolgimento del Parlamento che invece Calderoli ha voluto scavalcare perché si tratta dei diritti fondamentali delle persone. Anche sulle riforme, dare ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente un governo e una maggioranza di governo senza cambi di poltrone e di casacca per cinque anni, insieme l'autonomia, renderà l'Italia finalmente un paese moderno, efficiente e più stabile. Abbiamo assolutamente scellerato il progetto dell'autonomia differenziata perché non avrà un altro effetto che è indebolire la risposta al sistema sanitario in aree già svantaggiate. Noi siamo un partito nazionale, io sono stato eletto anche parlamentare di questa terra, non avrei mai sostenuto un testo che andasse contro gli interessi del sud del nostro paese. Si rischia tra breve di avere un paese nel quale un'impresa, una famiglia, un cittadino muovendosi sul territorio nazionale rischia di avere per materie importantissime alle volte come interlocutore lo Stato, sia dal punto di vista legislativo che amministrativo, alle volte le regioni. La Costituzione prevede l'autonomia differenziata ed è giusto portarla avanti, anche in segno di rispetto nei confronti del garante della Costituzione che è il Presidente della Repubblica che ha controffirmato il disegno di legge che oggi è in discussione nelle Camere. Combattiamo contro l'autonomia differenziata perché a me appare come una sorta di contro risorgimento, una rottura dell'unità nazionale. Altro grande tema, l'avete sentito, ben trovato in diretta, l'autonomia differenziata, una riforma che va avanti sotto traccia, non senza frizioni, anche all'interno della stessa maggioranza. Adesso sentiremo perché. L'autonomia, chiedo a Massimo Martinelli, è uno di quei discorsi, di quegli argomenti sui quali le persone non si accapigliano, non si appassionano, non se ne parla abbastanza. Un po' perché non si è capito bene in che cosa consista questa riforma, un po' perché ci sono molti tecnicismi e un po' perché forse, chiedo a te, si è capito che è lì che ci sarà il primo vero sconto all'interno del governo, è così? Voi su un messaggero ne parlate in continuazione, devo dire. Noi ne parliamo molto perché riteniamo che sia un problema fondamentale per la tenuta della democrazia, per la garanzia di uguaglianza tra i cittadini italiani e condivido con te l'analisi sulla difficoltà della percezione del problema. Probabilmente è anche colpa nostra che utilizziamo molti termini tecnici, probabilmente per pigrizia mentale. Quindi se ho tre minuti provo a esplicitare in maniera semplice. L'autonomia differenziata dovrebbe diversificare le competenze all'interno del Paese. Parliamo di scuola. In questo momento è documentato che gli studenti del Sud nel loro ciclo naturale di scuola vanno a scuola un anno in meno degli studenti del Nord. Sembra un paradosso ma è così. Come succede questo? Succede perché al Nord c'è il tempo pieno e al Sud non c'è il tempo pieno. Al Nord hanno più soldi per pagare le aule, gli stipendi degli insegnanti, la mensa e al Sud non ce l'hanno e quindi mandano i ragazzi a casa poco prima dell'ora di pranzo. Quindi questa è una diversificazione di preparazione per i ragazzi. È una possibilità di avere un rapporto con un tutor inferiore. E questo provoca già una diseguaglianza. La sanità. In questo momento gli ospedali del Sud sono meno attrezzati, hanno meno macchinari, hanno meno specialisti. In questo momento i pazienti del Sud vanno a curarsi al Nord. Ci sono alcune regioni, alcune città, ad esempio Monza, Milano, ce ne sono anche altre in Veneto. La Lombardia e il Veneto sono le regioni che accolgono maggiormente i pazienti del Sud. Vengono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale per quelle prestazioni. Significa che il Servizio Sanitario Nazionale convoglia già adesso tantissimi soldi in più a Lombardia e Veneto perché curano i pazienti del Sud, che non possono curarsi il Sud. Quindi questo aumenta la divaricazione. Ecco, dove vuole arrivare l'autonomia differenziata? A dare autonomia ai paesi del Nord e consentire di trattenere una parte del gettito fiscale in casa loro, quindi essere ancora più economicamente forti, quindi implementare i servizi. Possiamo parlare anche di trasporti, ad esempio di infrastrutture. E quindi mantenere al Nord un'isola felice e al Sud un feudo un po' più disastrato, diciamo così. Prima abbiamo sentito Calderoli che diceva voglio parificare le possibilità di tutte le regioni. Questa cosa qui è inesatta. Nei giorni scorsi il comitato che dovrebbe individuare i livelli minimi di prestazione per tutte le regioni ha detto che quella lì non è più una priorità. Quindi vogliono andare avanti senza stabilire qual è il livello medio di prestazione. C'è una commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, presieduta tra l'altro da un leghista? C'è una commissione che dovrebbe dire che al Sud devono fare 8 ore di scuola e al Nord devono fare le stesse 8 ore di scuola. Questo è il livello di prestazione. Per un governo a trazione centralista, come dovrebbe essere Fratelli d'Italia, è accettabile. Il nodo della questione è, quando arriveremo poi a Dama, il governo Meloni, Giorgio Meloni, può accettare una serie di cambiamenti di questo tipo senza entrare in rotta di collisione con il principale alleato? Abbiamo percepito nelle scorse settimane, nei mesi scorsi, che le posizioni all'interno della maggioranza sono diversificate. Anche all'interno della Lega, probabilmente, alcuni esponenti sono fortemente convinti della necessità di procedere in tempi rapidi, altri credono che non sia una priorità. All'interno della maggioranza questa convinzione è ancora più diffusa, cioè che non sia necessario arrivarci velocemente. Non a caso, oggi voi scrivete che abbiamo 557 emendamenti, se non sbaglio, da votare in Commissione e Bilancio, che non si voteranno, esiliterà tutto a settembre. Non so se su questo è allineato o ha delle notizie in più. Poi adesso... No, no, io non ho notizie particolari, ma sinceramente mi sembra di essere tornato negli anni 90. Va a rilento il progetto Autonomia o no? Ma no, non credo che vada a rilento, ma è parte essenziale del programma dell'alleanza di centro-destra, voluto dalla Lega. Io sono iscritto alla Lega da quando ho 16 anni, insomma, ne ho visti di dibattiti sul tema dell'autonomia e del federalismo. C'è un tema di competenze organizzative sul territorio e c'è un tema anche di competenze legislative, che fra l'altro sono state nel frattempo spogliate da Bruxelles, che è, come ho detto già prima, ha continuamente legiferato su cose anche di competenze dei stati e che in alcune realtà, Germania e Italia in particolare, vedono competenze importanti delle regioni. Alcune delle distorsioni di cui ha parlato il direttore, però, nascono proprio da uno stato centralista che oggi avrebbe le competenze e le risorse, ma che ha fatto il disastro che vediamo. E attenzione a dire che il Nord vuole fare questo in maniera egoistica, perché il Nord sta ospitando nelle proprie università, nelle proprie aziende, tanti ragazzi, uomini e donne del sud, che hanno opportunità, anche dalla mia città Genova, tanti giovani vanno a Milano, sono risorse che vengono create e rimangono in circolo. Se quello è il territorio, è certo, ma ci sono delle realtà del nostro paese che sono in diretta competizione con città e regioni di paesi del Nord Europa che godono di questa autonomia. Posso citarvi anche dell'autonomia fiscale dei porti, nostri concorrenti del Nord Europa rispetto a Genova e Trieste, Napoli e tutte le altre realtà. Quindi mi sembra che siamo tornati un po' indietro rispetto a un tema che riguarda anche molto la responsabilizzazione nei processi decisionali. Si sostiene quindi che il Nord deve competere con il resto dell'Europa e il Sud no? E il Sud deve... Allora, il famigerato PNRR o strumenti di quel tipo lì, se io farò ancora politica nel 2026, vi prego di invitarmi qua insieme, andiamo a vedere quanto avrà contribuito anche esso ad aumentare le divisioni e la capacità di essere competitivi dei territori. Perché io vedo che su certe priorità indicate da Bruxelles, sull'innovazione, sui temi green, su altro, vedo territori già pronti con progetti, altri che questi progetti non li avevano neanche nel cassetto e che magari al contrario hanno la necessità di infrastrutture basilari che non sono le priorità di questi strumenti europei e che lo Stato centrale in questi anni, negli anni passati, perché questo governo c'è da pochi mesi, non ha mai fatto i prodotti del Sud che non riescono ad arrivare in Europa, nei mercati europei, specialmente quelli dell'agroalimentare, ma non solo, abbiamo anche aziende innovative importanti, anche per un deficit infrastrutturale su cui stiamo lavorando tanto, il tanto criticato... Il discorso è chiarissimo, adesso coinvolgiamo anche gli altri due interlocutori, però sta dicendo... Quello che ho detto all'inizio, secondo me è una cosa falsa. Secondo lei, in base al suo ragionamento, Giorgio Meloni, intesa come Premier, può accettare un discorso del genere, cioè mandare il Nord a competere in certe condizioni con l'Europa lasciando il Sud in altre condizioni, quindi in maniera non competitiva, questo voglio dire. Lo sapete benissimo cosa volevo dire. A parte che c'è un tema di equilibrio anche rispetto a proposte più care a Fratelli d'Italia come il presidenzialismo e quindi mi sembra anche naturale, ragionevole, compensare un tema di presidenzialismo, quindi di dare un certo tipo di potere a un Premier a quel punto eletto dai cittadini e non dai parlamentari, con territori che possano dire la loro. E poi tutti gli strumenti di perequazione e di adeguamento già ci sono e ci saranno sempre, perché non è interesse delle regioni del Nord avere un Sud che non riesca a crescere. E' esattamente la domanda che stavo per fare, la faccio da entrambi. Allora c'è stato, c'è effettivamente come noi abbiamo detto, l'hanno detto, non è un mistero, uno scambio autonomia presidenzialismo. Però la mia sensazione, chiedo a Flavia, è lo scoglio sul quale si andrà alla fine a sbattere? Cioè questo patto, ammesso che sia stato fatto, conosciamo la riforma della autonomia differenziata, è una misura di bandiera di un partito. Anche il presidenzialismo? Sì, era nel programma. È chiaro che i quesiti che stava prima sollevando Martinelli sono molto condivisibili, perché comunque la paura per gli interlocutori, per lavoro, insomma, perché è del Sud, è che tutte le problematiche che Martinelli ha esposto, cioè una sanità a macchia di leopardo che funziona molto meglio al Nord e una migrazione sanitaria, cioè che dal Sud vanno al Nord per curarsi. A parte è un fenomeno che avviene anche tra Nord e Nord, cioè vanno a curarsi in determinate regioni del Nord piuttosto che in altre. Quindi comunque però al Sud è molto sentito questo problema. Il problema anche dell'istruzione. Ecco, sono delle piaghe che non vorremmo che con l'autonomia differenziata aumentassero invece di diminuire. Ecco, e quindi io penso che un governo cosciente e rigoroso debba pensare a questo. Io penso che ci sarà un bel confronto all'interno degli azionisti della maggioranza per tutelare una parte del Paese che è più debole e che non può essere lasciata da sola. Buone, la mia sensazione invece, ecco, mi riaggancio a quello che ha appena detto Flavio Giacobbe, che tutti sappiano che ci sono dei nodi che prima o poi verranno al pettine, ma al momento il governo ha altre priorità e quindi stiamo lasciando che questa riforma proceda, diciamo, tra virgolette, sotto traccia e il rallentamento che c'è stato oggi è abbastanza indicativo a fine estate, perché è un tema che alla fine dividerà inevitabilmente i due principali alleati e così, secondo lei? Ma assolutamente non lo diciamo da tempo, c'è uno scambio politico. La Lega vuole l'autonomia differenziata, Fratelli d'Italia vuole il presidenzialismo e fin quando uno dei due non ha la certezza di incassare sia un provvedimento e l'altro, questi provvedimenti andranno. Procederanno insieme. Il problema è che non si può cambiare la forma del nostro Stato attraverso questo scambio che mette in discussione l'unità del Paese, perché qua si la mette in discussione nella maniera più categorica, perché nel momento in cui i livelli essenziali di assistenza, primari, scuola... I LEP, perché è un'altra cosa che la gente non capisce, i LEP sono i livelli minimi di assistenza che la Regione in questo caso deve fornire. Esattamente, dalla scuola... Parliamo di servizi al cittadino. Dalla scuola alla sanità, di fatto vengono messi in discussione perché i trasferimenti di risorse che lo Stato normalmente fa alle Regioni non saranno più come quelli che sono e che quindi viene meno il principio di sussidiarietà che è tra l'altro garantito dalla nostra Costituzione e quindi Regioni, diciamo, tra virgolette più indietro, continueranno a rimanere indietro attraverso un processo, da questo punto di vista, inarrestabile, trovo questo fatto un fatto inaccettabile su cui noi faremo una durissima opposizione in Parlamento e nel Paese, perché su questa cosa il Sud si rivolta, attenzione, perché già c'è stato, chiedo scusa, già c'è stato un livello di una politica becera, me lo faccia dire, che sulla sanità, in particolar modo nel Sud, ha veramente calpestato i diritti dei cittadini, perché c'è un problema di una politica clientelare che non ha messo il tema del merito come un elemento essenziale per far progredire quella Regione, ma in più se noi aggiungiamo questo elemento in cui non si dà questa possibilità di riscatto del Sud, poi non è vero che non ci siano, diciamo, situazioni di eccellenza nel Sud, per esempio a Catania, dal punto di vista degli investimenti che sono stati fatti, ma immagino anche dal punto di vista di alcune società, aziende, a Catania ci sono aziende molto importanti, start-up, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, che sono molto avanti in alcuni settori del nostro Paese, bisogna fare in modo... climatici, ma pensiamo che ci possano essere differenze tra Calabria e Lombardia nel raggiungimento di questi obiettivi, anche perché la questione ecologica non è che può conoscere confini da questo punto di vista, prima sentivo l'esploramento della Lega dire, ma noi dobbiamo aiutare specialmente il settore agricolo, l'agroalimentare del Sud, che ci sono delle eccellenze molto importanti, io ho visitato ad esempio alcune di queste, tra Trapani e Catania, e molti di questi imprenditori lamentano non il fatto che non ci sia il ponte sullo stretto, che non lo utilizzeranno mai perché il pedaggio e il costo gli fa aumentare il livello di costo unitario delle merci, ma il fatto che non ci siano quei corridoi, quella facilità, ad esempio dei corridoi, navali e altro, che gli consente di far arrivare le merci e tutta una serie di problemi legati a livelli di tassazione, a livelli anche di semplificazione burocratica amministrativa, quindi il tema dell'autonomia differenziata è un problema che dividerà l'Italia e farà esplodere il Sud e non solo il Sud. Allora, adesso dopo la pausa vorrei che Marco Campomenosi mi spiegasse bene per quale motivo il Sud potrebbe avere dei vantaggi, ammesso che qualche regione decisse di chiederla, l'autonomia differenziata rispetto alla situazione attuale. In soldoni, parlando di prestazioni, scuola, sanità, ciò che riguarda i cittadini, ci fermiamo appena un attimo, volevo farvi vedere al volo le immagini del Papa, oggi sapete che Papa Francesco è a Lisbona, ecco le immagini in diretta, si apre al giornato mondiale della gioventù, nel pomeriggio è prevista questa grande cerimonia, questo grande bagno di folla, questa mattina il Papa sta incontrando però i giovani all'Università Cattolica Portoghese, insomma un viaggio nel quale il Papa tra l'altro non ha mancato di lanciare un appello proprio sul fatto di sbarazzarsi per esempio degli anziani o degli ultimi, come ama ripetere. A tra poco! 10 e 21, ben trovati in diretta su Coffee Break Estate, sulla 7, eravamo rimasti creditori di una risposta da Marco Campomenosi sull'autonomia, però vi faccio vedere intanto le immagini che arrivano in diretta dalla Camera perché come vi avevo detto oggi si discute, poi si voterà la sospensiva su quel famoso emendamento della maggioranza sul salario minimo con il fatto scontato che la discussione riprenderà poi a settembre ma Elie Schlein sembra aver rotto ogni tipo di trattativa poco fa perché vi leggo questa agenzia così come è arrivata non ci stiamo dice la segretaria del PD, vi è caduta la maschera dunque sul salario minimo sembra esserci una rottura, vedremo poi come andrà la discussione alla fine dell'estate come andrà oggi il voto, credo, chiedo a Bonelli conferma, senza sorprese oggi dovrebbe essere votata questa sospensiva. Sì, la maggioranza ha deciso per la sospensiva e quindi la voterà. Va bene. Campomenosi? Ma sull'autonomia, ecco non abbiamo sottolineato abbastanza che il tema è anche quello della responsabilizzazione dei territori, ancora di più di quello che avviene oggi perché il meccanismo che deve scattare deve essere di tipo virtuoso. Alcune regioni usufruiranno di maggiore autonomia e saranno da stimolo ad esempio di altre che magari oggi non sono pronte a farlo e che avranno comunque il sostegno dello Stato. Non è di interesse di nessuno. Stiamo parlando di zone fiscali privilegiate per tutto il Sud per cercare di attirare gli investimenti, avremo tutte le politiche della transizione su cui il Sud sarà assoluto protagonista. Io non sono assolutamente preoccupato di questo. Faccio parte di un partito che non è più Lega Nord da tanti anni, che ha tutto l'interesse, ha che visse un equilibrio, uno sviluppo che parta proprio dal principio di sussidiarietà. Cioè è l'esatto contrario di quello che dicevi te. Proprio perché deve esserci una responsabilizzazione, non può esserci più un presidente di regione, un assessore regionale che dia la colpa a qualcun altro del fatto di non riuscire a fare certe cose. Partendo proprio dalla necessità che abbiamo un deficit infrastrutturale fortissimo e che deve essere... Mi spiega in due parole qual è la differenza tra questo progetto e quello del federalismo di qualche anno fa? Per me è la stessa cosa. Poi i costituzionalisti ci potrebbero raccontare tante cose rispetto a come si giunge a uno Stato federale. Spesso è il risultato dell'Unione. Progetto però, insomma, come lo stesso. Però probabilmente il nostro Paese paga il fatto di non avere già compiuto queste scelte anni fa. La Germania l'ha fatto da tanto tempo e mi pare che la Germania Est sia riuscita a colmare dei deficit importanti rispetto ai Paesi dell'Ovest. Quindi veramente non sono assolutamente preoccupato. E guardate che io partecipo a conferenze, incontri con sindaci, amministratori siciliani, campani. Cioè non è più un discorso di nord contro sud. Ecco, non torniamo a un dibattito un po' povero, secondo me, rispetto a cose che devono sfidare invece l'amministrazione. E tanti strumenti sono nazionali. Presidenti di regione, sindaci, sono tutti, compresi di destra devo dire, guardi, ci sono tantissimi che sulla dominica differenziata fanno tutti assemblee insieme e manifestazioni insieme perché c'è una grande preoccupazione. Ma ci mancherebbe, ma sarà compito del governo rassicurarli. Alcuni lo faranno in maniera strumentale, altri lo faranno perché preoccupati. C'è il rischio di acuire ancora di più la differenza tra nord e sud. Più che rischio è una realtà se va avanti questo progetto. Invece il centralismo in questi trent'anni li ha riavvicinati il nord e sud. Mi sembra che non abbia assolutamente... Ecco, non vorrei che il centralismo sia un alibi invece per non risolvere i problemi del sud. Guardi, non è un problema. Io penso che dare poteri e decentrare i poteri sia un elemento importante. Dare un'autonomia di governo alle realtà locali sia una questione su qua anche noi ci vogliamo battere. Però non consentire a tutti di partire tutti dalla stessa base di partenza. E quindi parliamo in sintesi dal tema del trasferimento delle risorse. Quindi facendo una distinzione che va a determinare una cessura tra nord e sud, questo no. Perché far venire meno il principio di sussidiarietà. Questo è un elemento che per noi è imprescindibile. Ammesso e non concesso che ci sia un patto di cui non conosciamo benissimo i contorni Martinelli su autonomia e presidenzialismo. Queste due riforme procederanno in maniera parallela? C'è il rischio che cadano entrambe o che una possa arrivare fino in fondo e l'altra no? O sono talmente legate che cadranno entrambe nel caso uno o due partiti dovesse mettersi ritraverso su una delle due riforme, secondo lei? No, prima di rispondere devo capire bene una cosa che ha detto l'onorevole Campomenosi. Quindi noi con l'autonomia mettiamo in condizione le regioni che già vanno bene di andare ancora meglio, sperando che quelle del sud prendano esempio e quindi si diano in qualche modo una mossa. Questo mi pare che sia la filosofia che lei ha detto sull'autonomia. Lei invece preferisce che vadano male sia al sud che al nord? No, no, ma era per capire, era soltanto per capire. Così. Lo chiede ai ragazzi del sud che lavorano a Milano? Perché il sud non potrà andare come va bene il nord? Per un problema semplicissimo di infrastrutture. Perché da Roma a Milano si impegnano tre ore col treno, da Roma a Lecce che alla stessa distanza si impegna tre volte tanto. Quindi Milano potrà attrarre di più dalle altre regioni, Lecce, Bari, Taranto, meno. Questo è un problema grosso che riguarda le professionalità, che riguarda la sanità, che riguarda l'industria, che riguarda la politica. È quello che ho detto io. È quello che ho detto io. E questo è il risultato di anni di centralismo. Ma questo è il risultato di anni di sottrazione di risorse, di investimenti a tutti. Ma che sottrazione di risorse? Allora, le dico, in Calabria vi sono ancora binari a Unisci. Lei sa che cos'è la littorina? La littorina ancora esiste. Sono treni che vanno a gasolio in cui i pendolari, anche d'estate, chiudono i finestrini perché devono decidere se morire di caldo o morire innaffiati dalle vantate del gasolio. Ma Campomenosi diceva che questo è il risultato di 30 anni di centralismo. Perché non si fanno investimenti sul trasporto pubblico. Questo è stato il destino drammatico del sud in cui sono stati tagliati risorse su livelli essenziali di infrastrutture che le hanno poi... E non è colpa della classe dirigente del sud, è colpa della Lombardia. che cresceva troppo. No, che c'entra la Lombardia? Non c'entra niente la Lombardia. No, lo so, è la domanda da questo. Campomenosi sta dicendo che la situazione che abbiamo oggi non può essere frutto né del federalismo né dell'autonomia perché non c'erano, ma è lo Stato centralista che ha prodotto questa distorsione. E mi pare che questo governo parli molto di infrastrutture. è frutto di scelte politiche sbagliate ma l'autonomia differenziata a quel punto mette una croce definitiva perché lei mi deve spiegare come la Calabria o la Puglia collegare Tarant a Reggio Calabria. Vi faccio un esempio. Siracusa-Trapani. Trapani-Siracusa. Lei sa quanto ci vuole andare in treno? Sono due siti archeologici molto importanti dal punto di vista turistico. Non sono collegati. O c'ha la macchina o ti attacchi. Significa che, guardi, facciamo una gara. Lei domani parte per Tokyo, prende l'aereo e io domani prendo il treno e parto da Trapani e vado a Siracusa. Però mi faccia parlare. Lei arriva a Tokyo, mi chiama Angelo... Ma mi fa parlare? Lei arriva a Tokyo, mi chiama e mi dice Angelo sei arrivato. Dico guardi, scusami, sto ancora per arrivare perché Trapani-Siracusa 11 ore e mezza ci vuole per arrivare in treno. Questo è il problema del Sud. Dobbiamo capire la colpa di chi è. Un problema che certamente deriva dai tagli che sono stati fatti e da scelte sbagliate. Questo acuisce all'economia differenziata. Acuirà questo distacco tra il Nord e il Sud in termini di investimenti. Allora, sui temi infrastrutturali stiamo anche a livello europeo riformando i corridoi della famosa rete TNT. Io sono relatore per il mio gruppo su questo provvedimento. Abbiamo, su un mio emendamento, scritto da me che abito a Genova, non a Siracusa, è passato, è confirmato anche dalla collega Annalisa Tarino, è passato l'emendamento per cui nella posizione del Parlamento proprio sulla rete ferroviaria siciliana e proprio per ovviare a quelle problematiche che lei denuncia, che io conosco benissimo, sarà inserito nella rete anche quello. Ma dal PNRR avete elevato il rimendamento della tratta Palermo-Catania. Dal PNRR avete elevato il rimendamento della tratta Roma-Fescara. Chiaro. Avete fatto queste scelte nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi mi venite a parlare di Sud che deve stare tranquillo. Il Sud non starà tranquillo. Perché secondo lei quell'opera si faceva entro il 2026, che è la scadenza del PNRR. è ovvio che dovrà essere finanziata con uno strumento ordinario nazionale, ma l'abbiamo messa tra le priorità. È nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo, ma lo chiede Edoardo Rixi, che è il Vice Ministro. Ha comunicato che non ci sono le coperture per realizzare quelle opere. Sì, perché ancora non le hanno messe. Allora, stiamo allargando un po' il dibattito a temi che meriterebbero una tempistica un po' più inserivamo nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Vi chiedo di fermarci un attimo qui, perché se cominciamo a parlare di PNRR, poi gli argomenti da trattare sono troppi. Facciamo un piccolo break. Riprendiamo subito dopo, perché ci sono anche altri temi di cui vorrei parlare. Ci ha raggiunto intanto il nostro sottocorona. Buongiorno. Buongiorno. Cerchiamo di fare punto anche su quello che succederà da qui a weekend, magari. Sì, sicuramente non farà caldo. Questo lo diciamo subito. Qualunque allarme ci sia non è per il caldo. Allora, il nord comincia a essere interessato da una serie di zone nuvolose non molto intense al momento. C'è qualche debole pioggia fra Toscana e Liguria, però subito a nord c'è tutta un'attività di basse pressioni, perturbazioni che vengono dall'Atlantico e prima o poi qualcosa riesce a entrare. Oggi probabilmente nel pomeriggio, perché fino ad un'ora, come vedete, non c'è molto, nel pomeriggio delle piogge anche intense sulle zone di nord-est, segnatamente il Friuli Venezia Giulia. Il colore giallo che sfuma al rosso significa quantità molto elevate di pioggia, quindi temporali, rovesci, insomma un tempo molto instabile. Al centro si affaccia qualche nuvola, poche al sud, ma insomma la giornata non cambia molto e solo per oggi al sud forse le temperature sono ancora abbastanza elevate. Domani questa instabilità, questo passaggio di perturbazioni, prende tutto il nord, vedete, con zone molto spesso intense di precipitazione, quindi instabilità fortissima, maltempo marcato. Sappiamo che anche d'estate il maltempo quando arriva può colpire. Poi la zona dell'arcipelago toscano con qualche fenomeno. Questa zona molto intensa che parte dalla penisola balcanica attraversa tutto l'Adriatico e raggiunge, vedete, le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo, anche qui con fenomeni molto intensi. Qualche pioggia arriva anche al sud, piano piano. Sabato si attenua molto questa instabilità al nord, anche se sul nord-est, sull'Emilia Romagna, restano dei fenomeni però sempre meno intensi. Qualche pioggia sul versante tirrenico, qualche pioggia sul versante Adriatico del centro, al sud arriva il maltempo, perché qui in realtà si prende parte anche del Lazio e dell'Abruzzo, però vedete che sul basso Tirreno, sulle zone del Gargano, su alcune zone della Puglia, il maltempo c'è, quindi questo cambierà drasticamente la situazione. Poi, per carità, non è che sia finita l'estate, quindi chi dovesse andare in vacanze, come me, non mi preoccupo, mettiamola così. Però questo ovviamente cambierà molto la situazione delle temperature, che già fra oggi e domani scenderanno molto, eccole qua, vedete, nord e centro, addirittura in Sardegna cali che potrebbero essere di 14-15 gradi, ma oggi ha ancora valori molto alti. Al nord e al centro sicuramente domani fa più fresco, al sud ancora no, ma altre 24 ore. E anche lì cambierà la situazione. Ripeto, rottura dell'estate, no, è un incidente che capita anche d'estate. No, però dopo l'autonomia differenziata, anche il maltempo differenziato, a questo possiamo dire, ci fermiamo qualche istante. Vi posso dire che alla Camera, poco fa, durante il dibattito, anche Giuseppe Conte, intanto sul salario minimo, ha confermato quella che era la sua posizione, l'apertura della Meloni è solo a parole, no al rinvio, che come vi dicevo sarà votato tra poco. Arrivederci, qualche minuto, torniamo subito. Le 10.39 siamo sempre in diretta su Coffee Break Estate, voglio leggervi una notizia appena arrivata, parla il Presidente americano Joe Biden, parla del Niger, sapete che c'è una grave crisi in corso con un colpo di Stato che ha deposto di fatto con un arresto del Presidente democraticamente eletto Bazzuma e dice che è una grave sfida alla democrazia, bisogna rilasciare subito il Presidente Bazzuma, questo l'invito del Presidente americano che parla di questo fatto da ormai qualche giorno dopo il silenzio, tra l'altro in Niger oggi ricorrono i 63 anni dell'indipendenza, una ricorrenza, scrive e segnala, l'agile ad alto rischio, sappiamo che è una crisi che può interessare e interessa anche noi italiani, ma di questo parleremo tra poco. Voglio intanto salutare perché ci ha raggiunto Salvatore Francesco Camelli collegato con noi, Camelli buongiorno, è un tributarista, ve lo anticipo, che abbiamo chiamato apposta per spiegarci in parole povere in cosa consiste la delega fiscale che proprio ieri ha ricevuto il via libera del Senato, altro argomento insieme all'autonomia differenziata di cui si parla poco al Bar, ma che avrà delle conseguenze, avrà delle ripercussioni sulle tasche poi di tutti noi che paghiamo le tasse, ma forse anche di chi non le paga, perché cambiando le aliquote potrebbe essere un incentivo poi al pagamento. Doveva forse finire Marco Campomenosi sull'autonomia differenziata, abbiamo già detto tutto, non siete d'accordo, è ovvio che non lo siete, siete sugli opposti politici, sulle responsabilità della gestione di quello successo in Italia negli ultimi 50 anni, si può discutere a lungo, insomma almeno dal punto di vista dell'attuazione del PNRR speriamo di recuperare qualche risorsa per, non dico rimettere in sesto parti del Sud che necessiterebbero altri interventi, ma rimettere in pari, o nelle condizioni di rimettersi in piedi. Ma abbiamo già detto molto, ma tutte le urgenze, le necessità infrastrutturali del Sud le abbiamo inserite anche nei quadri delle reti europee, proprio perché qualsiasi governo ci sarà nei prossimi anni e non con strumenti a scadenza a brevissimo come il PNRR che stanno esprimendo tutta una difficoltà a essere utilizzati rapidamente, affinché qualsiasi governo non abbia più alibi rispetto a mettere come prioritarie certe opere che sono assolutamente fondamentali. Al di là poi delle altre priorità dell'innovazione e dei temi green che sono assolutamente sul tavolo e su cui certi strumenti sono già partiti. Quindi ecco, mi piacerebbe che il dibattito tornasse un po' di più in maniera, come dire, costruttiva e positiva, ma posso capire che le schermaglie politiche prevedono anche questo. Per queste schermaglie politiche mancava la risposta del direttore Martinelli sulle due riforme, se possono arrivare a dama entrambe o cadere entrambe o se una può avere un percorso diverso rispetto all'altra in questo patto tra il partito di Giorgio Meloni e quello di Matteo Salvini. Hanno due percorsi legislativi diversi, una riforma costituzionale quindi ha una procedura un po' più complicata, l'altra meno. Io personalmente mi auguro che perlomeno sull'autonomia ci sia un rallentamento, ci sia soprattutto un ripensamento sull'opportunità di vararla. La cosa che diceva Campomenosi è assolutamente condivisibile, però scinderei il tema del PNRR, delle infrastrutture che probabilmente escono dal piano di ripresa e resilienza ma rientrano con altri fondi, da quello dell'assistenza dei servizi e delle esigenze dei cittadini. Sono due cose diverse, vanno trattate diversamente e soprattutto vanno percepite dalla politica in maniera differente. Francesco Cameli, ieri riassumendo al massimo, il Senato ha dato il via libera alla delega fiscale che ora torna alla Camera, domani credo, ci sarà un comitato tecnico per la riforma tributaria, c'è una sorta di cabina di regia, chiamiamola così ma dobbiamo farci capire da tutti, l'esigenza è quella di attuare tutto ciò che il PNR prevede, tra le tante cose bisogna smaltire e tagliare i tempi delle liti tributarie, che sono quelle che affossano gran parte dei procedimenti del nostro Paese. Ci spiega in termini pratici che cosa significa a questo punto, cioè smaltire e tagliare i tempi delle liti tributarie? Molto volentieri, spero mi sentiate bene. Per parlare di questo argomento vorrei fare con voi un viaggio che dura circa 20 anni prima di arrivare alla legge delega a parlare di questo tema. Come voi ben sapete il nostro sistema soffre di liti tributarie da una parte e debito fiscale consolidato dall'altra, quelle che sono le cartelle di pagamento. Negli ultimi 20 anni, governo Berlusconi dal 2001 in poi, abbiamo assistito ad un utilizzo sempre più consistente di due tipologie di norme. Da una parte le norme che avevano come obiettivo quello di dare al contribuente la possibilità di risolvere la lite fiscale con l'Agenzia delle Entrate, quindi quella che in gergo viene chiamata pace fiscale, e dall'altra parte l'utilizzo di norme che consentivano e consentono tuttora la rottamazione quadra appena finita, al contribuente di saldare il debito fiscale cristallizzato, quello che già è nel ruolo e definito in cartella attraverso il pagamento dell'imposta con lo sconto degli interessi e delle sanzioni. Ora, il tema fondamentale su cui mi piacerebbe concentrarmi è questo. La domanda è, ma questi sistemi che abbiamo utilizzato negli ultimi 20 anni funzionano per risolvere la lite tributaria da una parte e il debito fiscale dall'altra? La risposta è che la vera domanda non hanno funzionato. è questa. E se faccio un esempio anche per consentire a chi ci ascolta da casa di capire un po' meglio. Se io ho la febbre per 20 giorni e utilizzo la tachivirina per far scendere la febbre, a un certo punto mi chiederò ma la tachivirina è lo strumento che mi consente di risolvere la mia febbre? Ecco, per rimanere su questa metafora, questa delega fiscale è quello che prevede e significa andare a curare il virus che scatena la febbre? Ci sono delle norme molto interessanti all'interno della delega e la cosa che mi piace molto personalmente della delega è che si cerchi di recuperare la centralità del rapporto tra agenzie delle entrate e contribuenti. Ci sono delle norme che favoriscono la cooperazione e il colloquio, diciamo così, produttivo tra agenzie delle entrate e contribuenti e questo mi sembra molto positivo perché il nostro è un sistema particolarmente complesso dove l'attività interpretativa è molto importante, quindi bisogna attuare tutti gli strumenti da una parte di collaborazione e dall'altra parte di semplificazione, anche qui mi sembra che ci siano degli ottimi spunti soprattutto per la revisione dell'IVA e delle imposte indirette che ricordo la International Tax Foundation ci dice che il sistema delle imposte indirette è quello che dovrebbe essere migliorato perché è troppo complicato. Nella legge delega si attua uno sforzo di questo tipo per recuperare la centralità del rapporto tra il contribuente e l'agenzia delle entrate che ritengo essere davvero fondamentale. Allora lo chiedo intanto a Flavia Giacobbe, dal punto di vista politico questa delega ci porta poi all'attuazione di una parte del programma di Giorgio Meloni e Matteo Salvini, cioè la famosa revisione delle aliquote IRPEF. È altra carne a fuoco che il governo mette nell'attuazione del proprio programma, del mantenimento delle promesse elettorali, secondo te questo? L'importante comunque è che questa misura non crei degli squilibri e soprattutto non favorisca l'evasione fiscale. Io penso che questa sia la preoccupazione che emerge, ma l'importante è che sia gli evasori, insomma che la situazione sia sotto controllo da questo punto di vista. La lotta all'evasione fiscale è un punto sul quale ci sono state molte discussioni. Il governo è stato accusato, lo chiedo anche a Campomenosi, ma insomma volevo sentire un po' tutti quanti è stato accusato di avere un occhio di riguardo, diciamo così, per chi non paga le tasse o per chi chiede uno stralcio della cartella. Campomenosi è così? Oppure è un governo che è un po' più tenero, fa una carezza ancora una volta nei confronti di chi le tasse non le paga per niente? No, ma è un dibattito, insomma, su cui ci siamo tutti scontrati già abbastanza ampiamente, ma è chiaro che non è quello l'obiettivo del governo, l'obiettivo è di far incassare allo Stato almeno parte di cifre che altrimenti non incasserebbe. Con questa delega fiscale può raggiungere questo risultato? È uno degli obiettivi. Vedo che Cameli annuisce. Però devo dire, attenzione, c'è un tema di semplificazione che secondo me è ancora più importante di ogni tipo di intervento condonativo piuttosto che di abbassamento dell'aliquota, perché io poi mi occupo anche di commercio internazionale. Abbiamo un problema non solo di semplificazione per i singoli cittadini, ma anche per le imprese, soprattutto per le imprese, quindi anche se vogliamo pensare di attirare investimenti dobbiamo avere procedure chiare e semplici. Io anche prima di essere un parlamentare europeo ho vissuto e lavorato tanti anni in Belgio, ho visto qual è la differenza tra una cosa che ti arriva a casa e che puoi compilare anche tu senza bisogno di professionisti e ciò che devo fare in Italia, per cui non avrei minimamente la competenza. Quindi permettere al cittadino, come diceva il nostro ospite, di avere un rapporto diretto con l'Agenzia delle Entrate è fondamentale, al di là del fatto che poi i professionisti sono lì anche per aiutare tutti. Tantimenti togliamo il lavoro, poi togliamo il lavoro a Cameli. È un obiettivo ambizioso, lo ammetto, so che non è semplice perché tanti governi non sono riusciti in questo senso. In principio a lei, ma insomma a tutti che ne abbiamo parlato fino adesso, era atteso il voto, abbiamo detto, in commissione di alcuni emendamenti oggi sull'autonomia differenziata, come scriveva il messaggero, è slittata a settembre, come era ampiamente previsto la discussione in Commissione Affari Costituzionali, il voto su tutti gli emendamenti. Questa mattina infatti il Ministro Roberto Calderoli ha portato in commissione una prima tranche di questa documentazione sul lavoro del Comitato per i livelli essenziali delle prestazioni e le opposizioni sono intenzionate, viene riferito a chiedere l'audizione prima di procedere alle votazioni, comunque il voto va a settembre. Mi sembrava di capire Martinelli che oggi forse il Ministro Calderoli avrebbe voluto portare almeno in votazione i primi tre emendamenti in modo da mettere una sorta di bandierina prima dell'inizio dell'estate sull'autonomia, è così? Sì, questa era l'intenzione che era stata manifestata dal Ministro Calderoli la scorsa settimana, ieri c'è stata questa frenata, questo rallentamento probabilmente provocato anche dalle contingenze della Camera che in questo momento hanno sicuramente un affollamento di dibattiti e di provvedimenti da discutere. Bonelli? Ma scusate, sulla delega fiscale che ci sia una necessità, e questo è indubbio, di semplificare e rendere più trasparente, è umano direi, è civile, il rapporto tra il contribuente e l'agenzia delle entrate non si discute, questo è assolutamente necessario. Però pongo due questioni, il tema delle nuove aliquote, è un problema che riguarda il tema che a noi non è abbastanza chiaro, il tema della copertura di questa manovra dal punto vista della finanza pubblica. La seconda questione è che alcuni emendamenti che sono stati approvati al Senato, che adesso verranno proprio stasera alla Camera su cui si discuterà, ponono un problema legato proprio alla lotta di evasione fiscale, cioè il rientro dei capitali, lo scudo penale di cui ogni volta si parla, tra l'altro queste continue esternazioni che ogni qualvolta si parla delle tasse siano, come dire, viste in maniera negativa, una volta la Meloni che parla del pizzo di Stato, Salvini che dice che è necessario fare il condono fiscale o la pace fiscale, insomma Giorgetti devo dire che ieri fa onore a Giorgetti che ha avuto delle parole chiare o un po' dissonanti dal resto del suo partito, che diceva che le tasse sono necessarie e che quindi la lotta all'evasione va implementata, però il punto è che da questo provvedimento noi non vediamo un impulso alla lotta all'evasione fiscale che è la vera patrimoniale che dovremmo fare nel nostro Paese. C'è pronto Francesco Magnani, tra poco c'è l'aria che tira, prima di salutarci con le ultime margini del Papa che tra l'altro sta parlando di ambiente, ma tra poco lo sentiremo, Francesco Magnani di cosa vi occupate tra poco, buongiorno. Buongiorno Marco, dopo giorni passati a raccontare delle difficoltà sulla riforma del reddito di cittadinanza, sulle proteste del Paese Reale, oggi dovremmo tornare a parlare di parlamentari che sembrano pensare a loro stessi, è tornata la casta, Piero Fassino che sventola la busta paga, l'ordine del giorno che chiede una parificazione degli emolumenti tra deputati e senatori, che si preparano a fare delle vacanze molto lunghe, ma sono davvero così lunghe guardando i Paesi, i parlamenti dei Paesi esteri non sembra davvero, ma sembra ritornare un vento dell'antipolitica, ne parleremo con Claudia Fusani, Paola De Micheli, Brunelli Abolloli di Libero, Gianfranco Pasquino, docente di scienza politica e ancora Maurizio Gasparri, Giorgio Cremaschi e poi alle 13 ci viene a trovare un grande maestro del cinema, Pupi Avati, questo e tanto altro tra poco, all'area che ti restate. Va bene, grazie Francesco, a tra poco il tempo di salutare i nostri ospiti, grazie a Salvatore Francesco Cameri, il tributarista che ci ha spiegato in cosa consiste la delega fiscale, grazie a Flavia Giacobbe e formiche.net, forse riusciamo a vedere al volo anche la copertina, di cosa vi occupate? di immigrazione e lavoro, un tema molto attuale. Immigrazione, due temi di cui parliamo sempre, Marco Campomenosi, europarlamentare della Lega, grazie, anche per le sue spiegazioni, Angelo Bonelli per l'Alleanza Verdi Sinistra e direttore del messaggero Massimo Martinelli, con voi l'appuntamento è domani alle 9.40 qui sulla 7, arrivederci.